Forse avete visto al Teatro Tenta, per le scelte di Cespire, Massimo, 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 al Teatro Tenta, Cespire, Massimo, per il tasto, per il tasto, come bene, e sta preparando un altro periodo, lui ha incaricato a questa satirica, un rivisitato Giacomo, a diversi autori, riscrivere e rivisitare un periodo, è il primo che ha fatto, al quale ho partecipato io, a Firenze, e Tarantino l'ha scritto, e l'altro pezzo che viene ora, Lina Prosa, L'edizia Russo, Marco Palladini, Stefano Massini, autori drammaturghi contemporanei italiani, il testo però rivisitarlo, rispettarlo, però riscritto teatralmente. Va bene, se avete voglia, io voglio due secondi di raffare una cosa, se venite con me, un buon.